Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di Bitcoin, però lo analizziamo nell'ambito di lungo periodo. Quindi andiamo a vedere quello che è il grafico settimanale per capire a che punto siamo di questo super ciclo che è iniziato, guardate bene, nel 2018, a dicembre del 2018 è iniziato questo super ciclo, ragazzi, che stiamo vivendo, la cui bull run, quella forte, l'abbiamo vista tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021. A che punto siamo? Che ciclo è? Che cosa sta combinando? E andremo a vedere anche queste risposte che ci può dare questo tipo di analisi relativamente ai prossimi mesi, quindi dove stiamo diretti probabilmente. C'è una sorta di similitudine per molti tra quella che è l'anno 2021 e quello che è un po' l'anno 2017, con l'idea che in effetti questo tipo di ciclo possa essere molto simile al 2017, e quindi dopo settembre, giugno, agosto, settembre, che ci fu una situazione un po' di ripresa di respiro dei mercati, e le CryptoBitcoin aveva dato poi il via ad una super fase di bull run che è scaturita poi con la maxibolla del dicembre 2017. Ma andiamo a vedere questi grafici, andiamo a rispondere a queste domande, lo facciamo in maniera molto evidente. Come sempre vi chiedo di iscrivervi ragazzi al canale se ancora non l'avete fatto, mi piace fare questi video che ormai lo sapete perché un po' andiamo a ragionare per capire dove siamo, e questo è molto importante perché ci dà anche un'idea generale con una visione un po' dall'alto, un po' più tranquilla, un po' da cocktail in spiaggia per questi ultimi giorni a Fosi, per vedere appunto quello che potrebbe succedere, eccetera. Ragazzi allora iscrivetevi anche al mio canale Telegram at tradingon.it perché sul canale Telegram mi sto risentando a pubblicare una serie di cose, quindi ieri ho fatto anche una storia su alcune operazioni che avevo fatto con l'applicazione StepDrop di Young Platform per una challenge che stiamo facendo, insomma carinissimo ragazzi. Quindi vi lascio il link at tradingon.it, iscrivetevi anche al mio canale Telegram. Ragazzi ecco il grafico che andremo ad analizzare oggi. Allora vi faccio capire in maniera molto molto semplice, questo è il grafico, è il BLX, quindi Brave New Coin Liquid Index for BTC, quindi non è aggiornato attualmente perché Bitcoin sta riprendendo un po' di fiato, a 47 si è riportato sopra i 48 mila dollari. Quello che vediamo in questo caso è un time frame di natura weekly. Allora questa situazione è molto molto evidente. Il ciclo maxi che stiamo vivendo in questo momento su Bitcoin è iniziato in questo punto qui, cioè nella settimana del 10 di dicembre del 2018. Poi ha fatto un'anomalia perché questo non è un ciclo così tanto simile rispetto ai precedenti, questo è un ciclo un po' anomalo perché è di natura ternaria e si sta strutturando in maniera molto diversa rispetto al ciclo 2017, anche se più o meno a livello temporale potremmo essere in effetti nella stessa fase, cioè dove manca appunto l'ultima parte per fare il super pump. Però questo è un ciclo ragazzi che, come si vede, ha una struttura ternaria. Tanto è vero che l'ultima fase di ribasso è andato proprio a completare quella che è la nostra un po' il dubbio, cioè è andato a chiarire in maniera definitiva questo dubbio. Perché? Perché questa fase di ribasso non è stata una semplice fase di correzione sulla media, per esempio a 26 periodi, come era stato per esempio nel giugno-luglio del 2017. Questo vedete è l'ultimo grande ciclo di BTC che era iniziato a febbraio-gennaio del 2015 e poi si era andato a concludere a dicembre. Questo ciclo ha avuto una forma completamente diversa da quello che stiamo vedendo qui ragazzi, perché questo super ciclo è stato molto molto simile a un andamento che io chiamo sempre l'andamento a scarpa, no? Quindi questa parte così, poi una parte totalmente in salita e poi il finale totalmente in discesa. Quindi un ciclo a forma esponenziale classica. Come vedete invece l'ultima fase è completamente diversa, tanto è vero che è molto più maturo questo tipo di ciclo, quindi con andamenti con alti e bassi più naturali rispetto a una forma esponenziale come quella del 2017. Quindi tecnicamente molti dicono, ok, siamo nella zona di giugno-settembre del 2017. Non è proprio del tutto così, perché la zona di giugno del 2017, tra giugno e settembre, è questa qui ragazzi. Quindi come vedete qui è vero che c'è stata una sorta di fase di ribasso per poi un reprise, ma erano tutte fasi di ribasso che si andavano a scontrare con il super supporto offerto della media mobile a 26 periodi. Questa che vedete disegnata è una media mobile a 26 periodi, che è una media mobile che utilizzo perché metà dell'anno in questo caso, perché siamo sul time frame settimanali. Come si vanno a immettere i parametri di una media mobile e degli indicatori? In base al time frame ragazzi, in base a quello che volete vedere, quindi non ci sono dei parametri fixed che sono validi sempre, ma dipende da quello che state cercando. Anche su questo ragazzi, formatevi per capire più o meno anche l'utilizzo dei parametri, altrimenti andate a utilizzare degli indicatori in maniera completamente arbitraria e quindi state giocando con il caso, ok? Citiamo il signor Taleb ogni tanto con il suo cigno nero. Va bene, allora, questo tipo di momento non è lo stesso di questo ragazzi, perché questa fase qui è stata evidente in forma ternaria, quindi il mercato ha dato due cicli completamente similari che sono stati già chiusi. Quindi in questa fase qui e questa fase qui c'è un andamento di struttura ciclica molto simmetrica, sono due annuali, in questo caso l'ultimo è stato chiuso intorno tra giugno e luglio del 2021, il famoso ciclo annuale che noi teniamo sempre a memoria. Ora, il mercato ha fatto il suo naturale pullback, quindi andiamo a vedere adesso l'ultima parte, andiamo a fare le conclusioni su questa struttura e andiamo a capire che cosa manca a questo super ciclo per andare nella sua fase di naturale conclusione. Manca l'ultimo pezzettino, vi faccio vedere per esempio con il conteggio dei giorni sul precedente anno, scusate, sui precedenti cicli, siamo a circa 200 e passa settimane, insomma ragazzi, questo è un ciclo molto esponenziale, quindi molto 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 lungo, questo qui sembrerebbe essere più o meno in quella fase, quindi in totale dovremmo avere più o meno lo stesso tipo di struttura e quindi probabilmente arriveremmo qui in questa zona ragazzi, ok? Dove va a finire questo super ciclo? Se si funziona in questo modo, intorno ad ottobre barra dicembre del 2022, quindi abbiamo un altro anno, ecco perché ragazzi, da un po' di tempo stiamo dicendo la possibilità che Bitcoin rientra in bull run è molto alta, ecco perché siamo a full long da un punto di vista holding, non perché scommettiamo su ipotesi campate in aria, a prescindere dal fatto che ognuno di noi crede chiaramente nelle crypto come settore futuristico, ci mancherebbe ragazzi, ok? Ma perché ci sono dei dati anche statistici, dei dati che possiamo analizzare da un punto di vista di mercato, quindi statistico, che ci portano a questa conclusione. Ok ragazzi, allora andiamo a vedere questa struttura, quindi mancherebbe quest'ultima fase, quest'ultimo pezzettino di ciclo. Come si può sviluppare un ultimo annuale in questo modo? Il mercato sta decidendo proprio in questi giorni e lo farà a brevissimo, se questo annuale ragazzi è un annuale che andrà a configurare nuovi massimi storici per Bitcoin oppure no. Se non configura nuovi massimi storici, cioè se il mercato decide che questo massimo è il massimo per questo ciclo iniziato nel 2018, quindi tutta la sua super struttura che possiamo disegnare per esempio in questo modo ragazzi, quindi questi cicli hanno anche una struttura, vedete, fatta in questo modo. Quindi la fase positiva della struttura ciclica di circa 200 e passa settimane è già avvenuta, non è una cosa terminata forse, però è già avvenuta ragazzi. Quindi non siamo nella parte iniziale, non siamo qui, non siamo qui, siamo nella parte finale di questa struttura ciclica, perciò il concetto se Bitcoin andrà a superare effettivamente questo massimo o meno è un concetto da tenere a mente perché potrebbe non essere così. Quindi questi mesi ci daranno risposta su questa questione qui. Io credo che Bitcoin lo faccia, l'ho detto in molti molti video, anzi ho già, se volete proprio saperlo, ho già i miei target price per l'intera struttura ciclica che vi sto mostrando, poi li vedremo nei prossimi video. Sicuramente ragazzi, prima però è inutile che non mi piace andare a buttarci giù lì i numeri, insomma non abbiamo superato neanche i massimi, non sappiamo questa cosa, però se dovesse avvenire a questo evento vi metterò anche i target price come ho fatto l'anno scorso, i famosi 67, che sto vincendo perché ormai manca pochissimo, quanto manca? Mancano 4 giorni alla fine di agosto ragazzi, ho vinto io la scommessa contro BTC e ragazzi ok, allora vi faccio capire questa cosa, quindi questa struttura ciclica, tecnicamente un ciclo annuale solitamente fa almeno un pezzettino, quindi un quarto, un terzo della sua struttura in struttura rialzista ed è quello che Bitcoin sta facendo, quindi se io vado ad analizzare una cosa del genere ho tempo di salire ancora almeno fino a dicembre ragazzi, quindi questo significa che la fase positiva potrebbe continuare. Ora Bitcoin è salito molto bene, ha fatto questo super pullback, tutto finora è assolutamente coerente ragazzi ok, non c'è niente di strano, non c'è niente di anomalo, ma in questo momento sta giocando con la media e anche questo è molto significativo perché come è avvenuto qui nel precedente ciclo, quando siamo andati a chiudere il ciclo annuale, poi Bitcoin ha dovuto lottare, vedete, contro la media mobile a 26 periodi, che è questa qui, una volta che ha preso coscienza del fatto che la media era stata superata, io poi fece anche un video l'anno scorso dove dicevo entrate long, bla bla bla, io stesso sono entrato anche con una mia operazione proprio in holding qui, proprio lo scorso luglio ragazzi ok, e questa zona proprio, questa zona quando ha preso fase e ha detto ok ci siamo, la media l'ho superata, si sta girando eccetera, riprende il 30 realzista, poi è iniziata la fase di bull, quindi in questo momento voi vedete questa settimana più o meno è intorno a 48, quindi qui è una settimana rossa, ma non rossa così perché in questo momento ancora i dati di questo grafico non sono aggiornati, però ragazzi questa struttura deve prendere ancora posizione sopra la media, quindi dovrà fare qualche altra settimana, giro pagando, ma sempre stando sopra la media 26 periodi e poi tentare il colpaccio, cioè andare diretta a fare il break di questi massimi con un testing eccetera e solo, solo in quel caso allora potremmo indicare in maniera abbastanza netta che questa struttura ciclica, delle tre strutture cicliche che vi ho fatto vedere andrà a configurare un massimo non già fatto, ma magari in questa fascia temporale che può essere probabilmente tra fine anno e i primi mesi anche del 2022. A che prezzo? Vediamo se qualcuno di voi spara i target ragazzi, se Bitcoin supera questi massimi e ci crea l'ultimo ciclo annuale rialzista anche in questo caso, attenzione poi molti dicono e poi si va a cresciare, ragazzi io ho anche una, 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 una ideuccia, ma ovviamente ne parleremo fra mesi, ve lo dico in maniera molto chiara, al momento ne ho parlato con uno spritz, mi spiaggia solo con mio cugino, ragazzi ne parlavamo di queste cose, anche lui le fa, e quindi insomma io ho raccontato una mia visione del mondo, ma essendo ipotetica diciamo allora non ve lo dico qui, poi ne parliamo nei prossimi mesi, però, allora è anche vero che poi questo ciclo annuale andrà nella sua naturale conclusione, non è detto che però sia fortissima la conclusione, come abbiamo visto per esempio nel ciclo del 2017, questa è una puncia che mi metto nell'orecchio, però se rompiamo i massimi, sempre se ragazzi, perché mi sembra anche giusto farvi vedere anche la visione non positiva, allora cosa succede se bitcoin non ce la fa a fare i massimi, succede questo ragazzi, succede che barcolla in giro per questa zona qui, continua probabilmente a fare questo zigzag per qualche tempo, prova magari a ragionare i massimi e non ci riesce, quindi fa una specie di pullback, poi incomincia una fase discendente naturale e tecnicamente va a rompere i minimi che abbiamo fatto a luglio, quindi sotto, i 26 per andare a chiudere poi con un ciclo creato in questo modo, quindi abbiamo due view che possiamo tenere in considerazione, uno è questa che è quella ribassista, l'altra invece è quella che porterebbe, ve la faccio con un altro colore, magari un verde, che porterebbe il mercato a fare un break di questi massimi e poi storici, e poi nuovi massimi appunto per poi creare la sua struttura conclusiva. Questi sono i due movimenti, uno di questi due è quello che Bitcoin farà. Allora voi dite, ma sempre due ipotesi, ma è facilissimo gestire queste due ipotesi con delle operazioni di trading ragazzi, perché se avete gli strumenti e non succede un evento come quello del break dei massimi, sapete dove andare a parare, andate sciolti copertura, vi proteggete fin tanto che non avviene quell'evento, se invece avviene state sul carro e si sta su ragazzi, così si fa trading, ok? Non inventandosi idee, dobbiamo avere entrambe le possibilità sempre a portata di mano e poi agire con le strumentazioni, con gli strumenti, con le tecniche di trading e di investimento per ripararci da eventuali burrasche o per salire sul carro, o in questo caso sarebbe un razzo, un missile, se va sulla luna. Cosa ne pensate? Quali di questi due scenari sono veri? Secondo voi quale si avvererà? E soprattutto che prezzi, se siamo sulla parte alta, se andiamo nello scenario positivo, che prezzi raggiungerà Bitcoin? Facciamo un sondaggio, scrivetelo nei commenti ragazzi e poi andremo a sviscerare nei prossimi mesi anche i miei. Va bene allora, siamo alla fine del video, vi ho fatto vedere il super ciclo a che punto è? 1.400 giorni di ciclo e siamo da 1.400 giorni, io di più, ragazzi, che faccio via su YouTube. Va bene, mettetevi un like, va, che ogni tanto merita e soprattutto fa piacere. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo nel prossimo video! Ciao a tutti!